Chiara Biasi incinta di Zazza? Spunto il pancino sospetto Chiara Biasi è incinta di Simone Zazza? La fashion blogger ha un pancino sospetto. Dopo Chiara Ferragni e Alice Campello anche Chiara Biasi è incinta? È quello che si stanno chiedendo i fan nelle ultime ore, dopo che la fashion blogger ha postato su Instagram uno scatto piuttosto sospetto. Fasciata in un tubino di maglina nero, la fidanzata di Simone Zazza è apparsa con delle rotondità decisamente nuove. Chiara infatti è abituato i suoi fan ad un fisico longilineo e asciutto, nasconde forse un dolce segreto? O è semplicemente ingrassata? Difficile dirlo visto che la Biasi è molto attenta alla sua alimentazione. . Alle domande dei fan, per il momento, la web influencer ha preferito non replicare. . Dunque, non ha confermato ma neppure smentito, è forse intenzionata a rispettare i fatidici tre mesi prima di annunciare il lieto evento? Del resto lo stesso hanno fatto le amiche Ferragni e Alice, rispettivamente in attesa di un figlio da Fedez e Alvaro Morata. . Zazza e Chiara Biasi, amore a gonfie vele tra i due. . Un figlio sarebbe il giusto coronamento per la storia d'amore tra Chiara e Zazza. . I due si sono conosciuti un paio d'anni fa grazie a Alice Campello e Alvaro Morata. . Da allora sono inseparabili e la Biasi non ha ammollato il fidanzato neppure quando l'attaccante è stato costretto ad abbandonare la Juventus e di conseguenza l'Italia. . . Prima l'Inghilterra, poi la Spagna, l'esperta di moda segue costantemente la sua dolce metà e non si perde una partita. . L'amore si è dunque solidificato anno dopo anno nonostante i numerosi impegni di lavoro e l'arrivo di un bambino porterebbe ancora più gioia a questo splendido rapporto. . Non è la prima volta che viene postata una foto sospetta. . Va precisato, però, che non è la prima volta che Chiara Biasi posta una foto alquanto sospetta. . Qualche tempo fa, quando la relazione con Zazza era cominciata da poco, la giovane ha pubblicato due spille da bagliatte a rappresentare una coppia, di cui una indolce attesa. . Lo scatto è stato cancellato dopo pochi minuti e in molti hanno subito ipotizzato una presunta dolce attesa. . Pure questa volta sarà una bagliola cicogna ed avviro in volo verso casa Biasi Zazza. .